Musica Buon salve a tutti ragazzi Benvenuti nella puntata numero Guarda la domanda che puntata è la pixelmon? Eh facciamo stare Benvenuti nella pixelmon Siamo qui in questo luogo misterioso Dove tutto ha inizio e nulla a fine E si questa battuta me la son fatta Tipo prima perchè ho detto Ehi devo iniziare con una puntata bella E mi son fatto il luogo dove tutto ha inizio E nulla a fine Fa figo perchè tipo c'ha Un lì sei zitto Ebbene ragazzi benvenuti nella nuova puntata della pixelmon Com'è stato tutto a posto Io sono tornato ieri e oggi Sto registrando non potendo expare Non l'ho fatto E quindi sono ancora con i pokemon abbastanza merdosi Ma ehi sti cavoli Noi giochiamo comunque Allora la prossima puntata abbiamo distrutto l'ultima palestra Quella nebbia Maledizione quanto era potente con la palestra Oh mio dio E non so se hanno fatto qualche miglioramento Ma penso di no E per te pareva Non è che fanno qualche miglioramento Sti tizi A parte questo Siamo felici Perchè dobbiamo andare verso la prossima città Che dovrebbe essere Che dovrebbe essere Si tutto funziona adeguatamente Con i nostri pochi gear Dovrebbe essere Chianwood Woods Che Woods sta per tipo Ehm Sta per foresta Si Chianwood Che sarebbe la foresta E quindi non so che tipo di pokemon abbia Bella domanda Lo scopriremo Ma sti cavoli Io non è stato mai il mio forte Quindi sorry per questa cosa Fosse stata Ehm O comunque Ehm Canto Sarebbe stato molto meglio Perchè in effetti lì ci ho giocato molto di più Rispetto a Rispetto al resto Vabbè A parte questo comunque Siamo felici Perchè dobbiamo andare a Chianwood Non so dov'è E quindi noi andiamo verso la dinammappa E andiamo a vedere dove cavolo è Questo nuovo posto Che bello Devo solamente andare ad Olive Inn Ad Olive Inn Fare un chilometro di mare E poi Essere felici Di aver vissuto bene La nostra vita Tutto a posto Relativamente a posto Ah Siamo arrivati al bivio tra Golden Road e Olive Inn Noi andiamo Da quella parte Siamo già arrivati Tipo era a due passi Vabbè Figo Va bene Andiamo a prendere un attimo Quei Dal nostro piccolo amico Il checkpoint Olive Inn Perfetto E adesso Da quello che ricordo Dobbiamo andare verso il basso Per trovare Ehm Il porto Perchè dal porto Noi possiamo finalmente Spostarci Verso la prossima Cittadina Poi dovremmo tornare Olive Inn Perchè Olive Inn Alla prossima palestra Dopo Quella di Wood Di Chanwood E quindi Andiamo verso il basso Ora non so bene Sì sto andando Da parte giusta Però il terreno Dovrebbe essere così A meno di quello che c'era scritto E Dovrebbe essere Più Da queste parti Sì ok Vedo tipo una spiaggetta Non so se è una spiaggetta questa Più giù Più giù Più giù Andiamo verso il basso Ok E quindi adesso In questo modo Dovremo partire Con il nostro Swampert Presumo Perchè è l'unico Che possiamo utilizzare Solo che Se funziona Magari adeguatamente La cosa Posso vedere anche Il mio Swampert Che esce E sono felice Sì Come no In realtà ragazzi Mi sa che non si può Nemmeno prendere Swampert Quindi Ehi Andiamo a piedi Verso quell'isoletta Che dovrebbe essere In teoria La parte giusta Non lo so Però almeno La terraferma Quindi andiamoci C'è un muro gigantesco Che probabilmente Mi separa dalla città Che io sto cercando E devo solo trovare Il posto per entrare Qui si è un bug visivo Tranquilli Che non è un buco Ok E Ci sono Dei piccoli amici Che ho ucciso Tanto tempo fa Siete felicemente morti Primo o poi Sì siete morti A meno voi E mi sa Ok ok Ho un'idea Come salire facilmente Sembra se Le mie doti di parkour Siano utili Uh Primape Fantastico Allora potremmo prendercelo Sinceramente Però poi vediamo E ok Le mie doti di parkour Mi dicono Che posso tranquillamente Fare in questo modo E girare Boom Detto Ulisse Parkour for you Ok E adesso Si va verso La nostra palestra Che Principalmente Dovrebbe Essere indicata Tramite i nostri Fili Conduttori Di Di cosi Di vetri Che però Non Ci sono Nada Non ci sono Oh Miltank Ciao Miltank Ciao Miltank Ciao Miltank Ancora Eccolo qui Centro Pokémon E c'è anche la nostra Scia rossa Che deve portarci alla palestra Che dovrebbe essere da quel lato Però prima di tutto Voglio andare a Mettere un checkpoint Perché se no Poi perdo anche questo E non mi piacerebbe Sinceramente Mi fa tempo Ci sono urla e grida Ma Ehi Questa casa Olisse Cosa ti aspettavi Ok Andiamo verso La nostra palestrosa Palestra Fatta di Cose palestrose Maybe Ma quanto son fighe Ste cose Di prima No Questa cos'è Questo era Diamine Non mi ricordo il suo nome Ragazzi E la terza evoluzione Di Del tizio Di quello Dello starter di fuoco Di Di Non me lo ricordo Vi giuro Vi giuro Un lapsus mentale Tutti in una volta Oh mio dio Oh mio dio Anche è troppo bello Troppo bello Andiamo verso la nostra zona Utilizzerò un metagross Che in teoria dovrebbe essere Forte con due tipi fighting Infatti qui ci sono tipi fighting E Dovremmo facilmente Shottare tutti Sempre Se in realtà Oh che figata Guardate quelli Sono carinissimi Andiamo un po' C'è qualcosa che potevo utilizzare In effetti Ehi Sto un po' laggando Infatti Mi sa Sì ragazzi è crashato Va bene A parte questo E Ok Noi abbiamo nient'altro Possiamo andare a combattere In realtà Abbiamo tipo It Monday Hitmonchan Che io amo fantasticamente Soprattutto Hitmonchan Quando mi chiedevano Ehi quale di due vuoi Hitmonchan Cioè è fantastico E poi c'è un bardak È un bardak quello Lol E poi c'è Hitmon top Si Hitmon top Che comunque dovrebbe essere Un tipo A metà Tra Hitmonchan E Hitmon lira Quello che ricordo Va bene A parte questo Ehi metalgross Attacca E uccidi sto tizio Ehi Magari riuscisi a buttare La mia pokeball Mi sa che sta ancora laggando Eh sì Ok Eccoci qua Polygraph Ok Che intere dovrebbe Pire ammazzate Dalla nostra Corazza zen Non dovrebbe farmi troppo male Corazza zen è fantastico ragazzi Deva tantissimo E bam Mi sembra che ho solo 10 colpi Quindi dovrò comunque Fare molta attenzione Allora c'è un 15 Quindi dovrei riuscire Anche a ucciderli I fanami Però mi fa un male assurdo Ragazzi Di fare una mossa a fuoco Però l'ho sciottato Lucario Death Pokemon Ragazzi Lo voglio Ad ogni costo Merda mi ha fatto tentennare Mi sa Ok Non morire in metalgross Perché sono un po' di mazzate Ma non troppe sinceramente Quindi va bene Corazza zen Ma fammi corazza zen Bello Bello Dai Corazza zen Siamo tutti tranquilli Felici e contenti Di questa Big uccisione Ok Lucario non è ancora morto Merda Un altro colpo Come mi ha preso tutto il danno Ah merda Mi ha ucciso Vabbè Swampert dovrebbe fare comunque Del bel danno Comunque Aia Lucario Morto Premape Fantasticamente con una bel fanghiglia Pilierà botte Si Knock off Ma vedi se muori con il nostro fanghiglia Che pili Immazzate E sei pure felice di questa cosa E potrebbe essere il primo pokemon Che io uccido Oh morto il pugno Fighting Potrei levare Riduttore Sicuramente morto il pugno Non dovrebbe essere più figo Ehm Va bene Devevamo protezione a sto punto Anche se in realtà protezione Si protezione non lo uso mai Non lo uso Quindi lasciamo stare Blanzi che ne è morto Perfetto Machamp Doveve essere l'ultimo pokemon In teoria Sono cinque Non lo so Non ho ben contati Va bene Ho lasciato anche questo E ragazzi Al primo colpo Oggi mi sento p Mi sento forte Oh mio dio ragazzi Ma che figata è questa Ottima par destra Olive in Abbiamo il nostro medaglia tempesta Nice E si va verso l'in Ragazzi Quindi Warp Olive in Dove sta Olive in Olive in Ciao Wood Olive in E siamo a nostra sesta palestra Se non ricordo male Giusto No siamo alla quinta Uno due tre Quattro Cinque Alla sesta palestra Che dobbiamo battere Per poi arrivare Agli e quattro Oh mio dio ragazzi Ragazzi Quanto sono contento Quanto sono contento Abbiamo un sacco di roba inutile Devo lasciare queste badge Da qualche parte Devo trovare un modo di farlo Ma lo vedremo E per adesso Però vi saluto L'episodio Ho durato un po' meno Del solito Ma chi se ne è fatta Ragazzi Ho ucciso comunque Il primo tizio Al primo colpo Quindi nice E la prossima palestra Non mi ricordo di cos'era Anche perché ho già detto Che Yoto non lo conosco tanto bene Quindi vedremo in modo Che cos'è Tramite Bulbapedia E noi ci vediamo Bulbapedia Non so come si dice Vabbè Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Mi raccomando Trovate qui sotto In descrizione Perché c'è la pagina di facebook Il profilo personale di facebook Che è cambiato Mi raccomando Quindi andate a cliccare Andate a fare follow Anche lì E trovate anche Il nostro Piccolo Diciamo profilo Di instagram Dove carico delle foto Molto interessanti Ciao ragazzi Lasciate un bel like Mi raccomando Noi ci vediamo